Allora, noi siamo in questa giornata coloro che porteranno avanti questa prima edizione dell'Animal Aid Live. La prima giornata internazionale per i diritti degli animali. Tu la vivrai, oh oh oh, sì tu vivrai, oh oh oh, tutta una vita con un amico, tu la vivrai, oh oh oh. Tu la vivrai, oh oh oh, sì tu vivrai, oh oh oh, poter donare solo l'amore, così vivrai. Ti senti in colpa quando vai via, quando sei solo e lo sai ti fa compagnia. Ma se credi davvero a una favola, potrai renderla come vorrai, anche vivere su di una nuova, forse un giorno la vivrai. Tu la vivrai, oh oh oh, sì tu vivrai, oh oh oh.